Un mercato unico europeo senza frontiere offre indubbi vantaggi. Persone, merci, servizi e denaro possono circolare con la stessa facilità con cui si muovono all'interno di un singolo paese. I cittadini della UE studiano, vivono, fanno acquisti, lavorano e vanno in pensione in qualsiasi paese dell'Unione e possono godere di un'ampia scelta di prodotti provenienti da tutta Europa. A tradurre in numeri i benefici del single market è uno studio realizzato dalla AMCAM U, l'associazione europea che racchiude le principali aziende americane che investono da tanti anni in Europa. Se ne è discusso in occasione di un tavolo di confronto fra decisori pubblici e imprese, tra le altre a T&T, MyTaxItalia, Deliveroo e Facebook Italia, organizzato da Utopia, Merigo e Denam. A illustrare i principali risultati della ricerca è il vice chairman single market task force di AMCAM U, Antonio Amendola. Il single market è una bella idea probabilmente raccontata male. È un'idea che deriva da parecchi anni a questa parte di integrazione economica come prerequisito per il vero raggiungimento di una pace solida e duratura in Europa. Lo studio è stato commissionato alla London Economies, che l'ha condotto indipendentemente, dimostra come i benefici attuali del single market sono già tangibili, reali, si trasformano in una percentuale importante sul GDP e anche sulla capacità di spesa delle famiglie e dei cittadini, ma sicuramente dimostrano, e questo è il segnale molto positivo e molto incoraggiante, che una maggiore integrazione del single market in Europa si trasforma in un deciso rafforzamento e dispiegamento di questi benefici. E i vantaggi sono concreti su PIL, consumo e occupazione. Attualmente il single market, così com'è all'anno scorso, si trasforma e si interpreta e si traduce in circa l'1,7% sul GDP europeo, che vale circa 600 euro di capacità di spesa per il nucleo familiare e circa 3,6 milioni di posti di lavoro all'anno. I dati purtroppo collocano l'Italia fra i paesi meno integrati, ma questo non vuol dire che la situazione sia del tutto negativa, molto ancora si può fare. C'è tanto da fare, lo si può fare, in termini anche abbastanza facili probabilmente, apparentemente, da quello che raccontano i numeri, e sicuramente i benefici anche per l'Italia sono molto più incoraggianti e interessanti di quanto non lo sia la difficoltà nell'applicare queste misure. È necessario allora puntare di più sul single market, perché, come ha sottolineato Gian Piero Zurlo, presidente e amministratore delegato di Utopia, è uno dei pilastri con cui Italia ed Europa possono definitivamente uscire dalla crisi. Lo sviluppo del single market europeo porta in dubbi vantaggi, da un lato nei confronti dei consumatori e dei cittadini, dall'altro lato nei confronti delle aziende, di tutte le dimensioni che operano nel mercato europeo. nonostante questi indubbi vantaggi che si possono sintetizzare in un aumento della domanda e un aumento dell'offerta di beni e di servizi, da un lato è una diminuzione dei prezzi che i consumatori sono disposti a pagare con un rafforzamento delle loro tutele, il single market ancora non è compiutamente integrato. Lo studio che abbiamo presentato oggi relega l'Italia, purtroppo, alle ultime posizioni in Europa, il 25esimo posto su 28 stati membri. Ecco perché è importante per una società come Utopia organizzare queste occasioni di confronto tra decisori pubblici e imprese che operano in tutti i mercati più evoluti, non solo quello italiano e quello europeo, ma in tutti i mercati globali, perché indubbiamente lo sviluppo del single market è uno dei pilastri attraverso i quali l'Italia e l'Europa insieme possono uscire da questa crisi evidente di questi ultimi anni.